Impressioni a caldo su El Conde di Pablo Larraín, un film molto interessante, una commedia dark che vede l'ex dittatore del Cile Augusto Pinochet diventare un vampiro, un film che vive quindi di una satira storica molto pungente, molto diretta, nonché di una messa in scena pregevole e di una regia di alto livello. Una produzione insolita per Netflix, un film assai grottesco che sa intrattenere grazie a dialoghi e battute divertenti ma che a volte pecca un po' nel ritmo forse un po' troppo contemplativo. Resta comunque un film da guardare e che potrà intrattenere un pubblico molto vasto soprattutto se si è appassionati di storia.